Per me è un grande onore da una parte e anche una grande speranza che le ragazze, vedendo lei, possano prendere esempio e prendere coraggio e non aver paura delle materie scientifiche. Ebbè, la nuova concezione, l'umismatica della Zecca, che in qualche modo interpreta il sentire della cultura popolare, quindi è giusto che oltre alle classiche rievocazioni e anniversari ci sia la corretta interpretazione del sentire magari dei giovani o dei meno giovani. Si ritrova nel momento più bello della propria esistenza, diciamo così, che riguarda così a occhio tanti dei presenti. Sì, siamo molto emozionati e anche orgogliosi di aver fatto parte di questa presentazione, di questa serie di monete speciali dedicate a Ducati, una casa che compie cent'anni nel 1926, è chiaramente una vera eccellenza italiana, i risultati ottenuti nel campionato MotoGP recentemente sono straordinari e anche i prodotti che stiamo rilasciando sul mercato sono delle davvero delle grandi eccellenze, quindi siamo molto contenti per questo riconoscimento. Si sarebbe fatto un sacco di risate intanto, ho visto che qualcosa di bello ho fatto nella vita, perché se mi ricordano, quindi sarebbe stato entusiasta, perché lui diceva sempre questi sono riconoscimenti che vuol dire che ho lasciato qualcosa di bello, qualcosa di buono, è questo che mi ripaga.